musica 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 ma lo sapete o bene? io ho fatto scritto ci sono passate sicuramente come non mai che ci ha fatto una roba che mi è venuta la frema me sono cagato sotto perchè non potevo studiare per l'orale non ci riuscivo che ci fa? chi lo aspetta la settimana per portare il risultato con banchino gruppe spazip ogni volta aggiornavo 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 non escevano mai però fortunatamente sono riuscito a finire il programma e quando ci furono il programma ci troppo manda sulla cina su terra con la camagna BOOM! lo sta rebocciato ma no! 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 ma no!